Lanciano calcio tra color che sono sospesi tra emergenza covid, un campionato ancorista in bai, un allenatore ancora da ufficializzare dopo l'esonero di bellè e una squadra che si alena singhiozzo sperando nella fumata bianca. Sergio Pirozzi, l'ex sindaco di Amatrice e mister dalle ottime referenze, è ormai distante dal rosso-nero con domanda ed offerta incolmabili. Pirozzi chiede tanti soldini, dunque lui non rientra più nel progetto del sudalizio frentano con altri nomi caldi. Il DG Iapaolo e il DS Dorazio hanno intavolato più trattative, con la scelta ora ristretta tra Renzo Tasso e Giuseppe Incocciati. Tasso fu un mediano di rango in Serie A tra gli anni 90 e i primi 2000 e pare benintenzionata ad accogliere le lusinghe lancianesi. Stesse motivazioni per Incocciati, attaccante di pregio nella Serie A di anni ruggenti a cavallo tra la fine dei settanta e i primi 90, ora allenatore stimato alla ricerca di occasioni propizie. Nelle prossime ore si spera che il nodo sarà sciolto. E la squadra nel frattempo è falcidiata da cinque casi positivi al covid con pochi elementi albiondi. Capitane Scipioni, lui si allena regolarmente, manifesta ambizioni, smarimenti, dubbi ma soprattutto certezze per il futuro. Abbiamo avuto cinque casi di positività nella squadra e tra oggi e domani dovrebbe finire la quarantena per tutti e quindi ognuno si allena a parte. Noi siamo venuti al campo, noi di Lanciano siamo in cinque qui che ci alleniamo, gli altri il resto si sta allenando a casa. È una situazione strana perché siamo ancora senza allenatore e noi seguiamo il programma di un preparatore atletico e noi più grandi cerchiamo di fare del nostro meglio, i ragazzi ci ascoltano e quindi siamo in attesa di novità. La squadra la stava col mister chiaramente come avete potuto vedere a questi giorni, però chiaramente noi abbiamo fatto il possibile per far cercare di rimanere il mister, però la scelta aspetta la società, noi facciamo il nostro perché il nostro lavoro è quello di giocare, ascoltare quello che ci dice il mister e poi la società, però come ho detto prima siamo in attesa. La stagione è difficile, però da una parte sono contento perché ha formato molto noi ragazzi, ci ha fatto capire delle cose che forse prima non riusciamo a vedere perché molti stavano sotto una campana di vetro, io e più grandi no perché ormai sono anni che giochiamo a calcio, però quest'anno ci è servito e ci servirà molto per il futuro. Noi ancora siamo convinti di poter raggiungere l'Avezzano sinceramente, però non dipende da noi soprattutto, dipende da loro, però loro sono una squadra molto molto forte, il nostro è quello di dare sempre il massimo, di fare più punti possibili, l'obiettivo rimane quello dei play-off e cercare di arrivare in Serie D in un modo o nell'altro.